Le notizie 60 secondi. Venerdì santo, stamani i migliai hanno assistito approcci dalla tradizionale processione di misteria. Dalle venti a Forrio in scena l'actus tragicus, la rappresentazione delle ultime ore di vita di Cristo, fino alla crocifissione. Un riferimento di una preghiera per le troppe guerre che insanguinano il mondo. Sull'Ucraina e sulla terra santo si è soffermato Monsignor Carlo Villano, Vescovo d'Ischia nell'Omelia della Messa Crismale. Da oggi in vigore il diveto di sbarco per le isole del Golfo, a Ischia non potranno sbarcare nel circolare veicoli provenienti dalla località della regione Campania. Da stamani è cambiato il sistema di imbarco per il porto di Ischia. Le auto in partenza, diretti dalla terraferma, tenderanno il loro turno di imbarco nel cosiddetto parcheggio guerra. Scuole, strade e ambiente, questi tre ambiti di intervento sui quali ruotano gli oltre 600 milioni messi in programma nel nuovo bilancio della città metropolitana. Napoli si lavora lacramente per sistemare il pericolo derivato dalla voragine provocata in via Morgan al Vomero. Prima di Pasqua sarà riaperta, assicura l'assessore Cosenza. Calcio, mister Buonocore, in diretta da Bordocampo. A causa della squalifica l'anno prossimo penso di farmi da parte. Prossimo appuntamento domani alle 13. Prossimo appuntamento domani alle 13.